La parola cambiamento è ovunque. Spesso crea ansia e disagio nel nostro staff. Ma cosa significa veramente? Come avere una visione chiara di ciò che implica il concetto di cambiamento? Questa breve sessione è progettata per manager e leader impegnati, responsabili di gestire il cambiamento. È molto pratica e gli strumenti forniti potranno essere applicati immediatamente. Tornerete al lavoro con idee chiari su come attuare i cambiamenti con successo e renderlo duraturo. Vi aspetto 7 luglio dalle 9 alle 13 qui in Skillab.